Primo giorno di ritiro per il giro a calcio, la squadra biancazzurra da oggi su dai ordini del tecnico Totò Bruculeri a Zafferana e alle pendici dell'Etna rimarrà in quel luogo fino al prossimo 31 luglio. Ci sarà da affrontare un campionato importante, quello di Serie D e i biancazzurri vorranno affrontarlo con la giusta carica, parole e musica del direttore sportivo Giovanni Martello. Oggi iniziamo, stiamo iniziando in questa bellissima, nella quiete di Zafferana e Teneo, una bellissima località, bella struttura, i ragazzi avranno modo di allenarsi per bene. L'obiettivo è quello di ben figurare, il Presidente ha già detto a chiare lettere che non intende fare campionati di ridere, ma vuole ben figurare, vuole essere un protagonista. Protagonista non vuol dire obbligatoriamente primeggiare, non facciamo voli pindari, ci vogliamo sicuramente essere una squadra importante, poi quanto importante vedremo cammin facendo. Intanto la società del Presidente Angelo Tuccio ha tesserato un nuovo giocatore, si tratta del centrocampista Costantino Chiedichimo, 19 anni, proveniente dal Cosenza. Una giovane promettente che si è ben comportato nella scorsa stagione sfiorando per un soffio la promozione in Lega Pro. Non si escludono altri colpi in entrata. Abbiamo ancora qualcosa da fare, credo che con calma stiamo cercando qualche altra cosa che possa assolutamente darci una mano per il campionato. Però siccome non vogliamo sbagliare o quantomeno cerchiamo di sbagliare il meno possibile, non ci lasciamo prendere dall'ansia, siamo vigili sul mercato, ma sicuramente qualcosa altra faremo e penso che sia qualche altra pedina importante.